Se ci troviamo nell'emisfero boreale, la rotazione terrestre avviene in senso antiorario. Per un osservatore nell'emisfero australe, il movimento avviene invece in senso orario. Come abbiamo detto, la Terra impiega circa 23 ore e 56 minuti per compiere una rotazione completa sull'asse terrestre. Come abbiamo detto, questa è la durata del giorno sidereo. Ma come si calcola questo intervallo di tempo? Grazie a tutti.